Buongiorno, eccoci qua, noi devo dire ci siamo svegliati molto presto, vero bambini? C'è l'ordodò che lui ne approfitta sempre per mangiare quando non mangiano gli altri, perché adesso ho messo la nuova pappa e lui è corso subito a mangiare, perché quando non c'è il resto si mangia meglio e si sceglie. Gli altri stanno ancora giocando, eccoci qua. E tu chi sei? E tu chi sei? Lord Muffin, 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 wow, wow, wow. La piccola Lexi, che tanto piccola non è più, anzi no, non è la piccola Lexi, lei è quella che dicevate tutti, ah la cicciona, la cicciona, avete visto come si è sfinata? Perché la piccola Lexi invece sta mangiando lì con Lord Muffin, lei invece è, la Lucrezia ha detto lo sì, e qui abbiamo l'ordodò, che visto che gli altri sono andati a mangiare, lui ha detto, sai che ti dico? Io mi faccio gli affari miei e vado a corteggiare le ragazze. Eccoci, allora, noi iniziamo la giornata, spero per voi che sia una bella giornata, qui oggi mi sembra, perlomeno stamattina ha piovuto, adesso forse non piove, però insomma non danno bello. Non è male che ieri siamo goduti quella giornata a Villa Panfili. Un abbraccio a tutti.